50 metri, 40 metri, 30 metri, 20 metri, 10 metri, primo classificato Dorigoni, secondo Bertolini e terzo Fontana, non arrivo quasi da foto qui l'applauso degli sportivi per il primo Dorigoni, per il secondo Bertolini, per il terzo Fontana transitano delle pozzacche recole ed è volata ed è Silvia Persico che va a vincere una delle vittorie più belle della carriera una grande gioia l'internazionale Berciotti, ma brava anche Casasola prima Silvia Persico, seconda Sara Casasola, terza Gaia Realini, un grande podio applausi per il primo Paletti, il secondo Cancetta, il terzo Bari il rettilineo d'arrivo è tra poco sul podio, sul primo gradino 50 metri, 40 metri, 30 metri, 20 metri, 10 Cristian Campini per la seconda posizione, alla meglio, Mattia Stenico nei confronti di Lorenzo De Longhi l'applauso degli sportivi per Cristian Campini, Mattia Stenico, Lorenzo De Longhi Anna Auerro che accelera la ragazza della Zanolini, parca il traguardo in prima posizione davanti alla numero 12, Lanfranchi, terza è Maima si è otto per la quarta posizione, la conquista Rinaldoni, che è la meglio, l'applauso di voi tutti per Cerame numero 3, vince Nicola Cerame secondo, Gregorio Acquaviva, terzo Marangon applauso per i primi tre atleti della categoria esordienti, atleti della Piton il secondo posto, Elisa Bianchi del team Piton prima concorrente classificata, figlia d'arte, Giorgia Fellizzotti, Pim Mosole grazie